Le leggi riconosciute della scienza fisica spiegano ben pochi dei più oggettivi fra i cosiddetti fenomeni spiritici. Mentre dimostrano la realtà di certi effetti visibili di una forza sconosciuta, finora non hanno permesso agli scienziati di controllare a volontà nemmeno questa parte dei fenomeni. La verità è che i professori non hanno ancora scoperto le condizioni necessarie per produrli. Essi devono andare a fondo nello studio della triplice natura dell'uomo, fisiologica, psicologica e divina, come fecero i loro predecessori, i maghi, i teurghi, i taumaturghi dell'antichità. Fino ad oggi anche coloro che hanno investigato i fenomeni completamente ed imparzialmente come il Crux hanno lasciato da parte la causa come qualche cosa che non deve essere scoperta perlomeno ora. Non si sono preoccupati di questo come non si sono preoccupati della causa prima dei fenomeni cosmici, della correlazione delle forze, i cui infiniti effetti essi cercano di osservare e classificare con tanta fatica. Il loro procedimento è stato poco saggio come quello di un uomo il quale volesse scoprire le sorgenti di un fiume esaminandone la foce. Esso, così, ha ristretto le loro concezioni sulle possibilità della legge naturale, da costringerli a negare l'esistenza anche dei più semplici fenomeni occulti, a meno che non siano miracoli. E poiché questo è scientificamente assurdo, ne è risultato che la scienza fisica va perdendo infine il suo prestigio. Se gli scienziati avessero studiato i cosiddetti miracoli invece di negarli, molte leggi segrete della natura, comprese dagli antichi, sarebbero state nuovamente scoperte. Dice Bacone, la convinzione non deriva dagli argomenti ma dalle esperienze. Gli antichi si sono sempre distinti, specialmente gli astrologhi caldei e i magi, per il loro ardente amore del sapere e la loro ricerca di conoscenza in ogni ramo della scienza. Essi cercarono di penetrare i segreti della natura al pari dei nostri moderni naturalisti e con il solo metodo con cui questo si può ottenere, ossia con le ricerche sperimentali e la ragione. Se i nostri filosofi moderni non possono capire il fatto che essi sono penetrati più a fondo di loro nei misteri dell'universo, questo non costituisce una valida ragione per negare loro il credito di aver posseduto tale conoscenza o per accusarli di superstizione. Nulla giustifica questa accusa ed ogni nuova scoperta archeologica è contro di essa. Come chimici gli antichi rimasero ineguagliati e nella sua famosa conferenza sulle arti perdute Wendell Phillips dice «La chimica dei periodi più remoti ha raggiunto un livello che noi non abbiamo nemmeno avvicinato». Il segreto del vetro malleabile che, sospeso per una delle sue estremità, si stira per il suo stesso peso fino a divenire un filo sottile che ci si può avvolgere attorno al braccio, sarebbe così difficile a scoprire nei nostri paesi civili come volare sulla luna. È un fatto storico che viene fabbricata una coppa portata a Roma da un esiliato sotto il regno di Tiberio, la quale, scagliata sul pavimento di marmo, non si spezzò per la caduta, ma essendosi un po' ammaccata fu facilmente riportata alla forma primitiva a colpi di martello. Se oggi se ne dubita è solo perché i moderni non sanno fare altrettanto e tuttavia in Samarkanda e in alcuni monasteri del Tibet, tali coppe di vetro si possono trovare ancora ai giorni nostri. Vi sono persone che affermano di poterlo fare in virtù della loro conoscenza del tanto deriso e negato Al-Kahest, il solvente universale. Secondo Paracelso e Van Helmont, questo agente è un certo fluido naturale, capace di ridurre tutti i corpi sublunari omogenei o misti, al loro ens primum o materia originale di cui sono composti. Oppure in un liquore uniforme, omogeneo e potabile, che può unirsi con l'acqua e con i succhi di tutti i corpi, mantenendo tuttavia le proprie virtù radicali. Se nuovamente mischiato con se stesso sarà convertito in pur acqua elementare. Quali impossibilità ci impediscono di credere a questa affermazione? Perché questo agente non dovrebbe esistere e perché questa idea dovrebbe essere considerata un'utopia? E ancora, perché i nostri chimici sono incapaci di produrlo? E tuttavia si può concepire, senza un eccessivo sforzo di immaginazione, che tutti i corpi debbano essere derivati in origine da qualche materia prima e che questa materia, secondo gli insegnamenti dell'astronomia, della geologia e della fisica, debba essere stata un fluido. Perché l'oro, della cui genesi, i nostri scienziati sanno così poco, non dovrebbe essere stato in origine una primitiva o basica materia d'oro, un fluido ponderabile che, come dice Van Helmont, per sua stessa natura o per una forte coesione fra le sue particelle, acquistò poi forma solida? Sembra che vi sia ben poco di assurdo nel credere in un ens universale, che risolve tutti i corpi in un ens genitale. Van Helmont lo chiama il più alto e il più efficace di tutti i sali, il quale, avendo ottenuto il supremo grado di semplicità, purezza e sottigliezza, è il solo ad avere la facoltà di rimanere immutato e non alterabile da parte delle sostanze su cui agisce e di dissolvere i corpi più refrattari ed intrattabili riducendo pietre, gemme, vetro, terra, solfo, metalli eccetera in sale rosso di un peso uguale a quello della materia dissolta. E tutto questo con la stessa facilità con cui l'acqua calda scioglie la neve. In questo fluido i fabbricatori di vetro malleabile sostenevano e sostengono ancora di immergere il vetro comune per parecchie ore, facendolo così divenire plastico. Abbiamo una prova pronta e palpabile di queste possibilità. Un corrispondente straniero della società teosofica, un noto medico che ha studiato le scienze occulte per più di 30 anni, è riuscito ad ottenere quello che chiama il vero olio d'oro, ossia l'elemento primo. Chimici e fisici lo hanno visto ed esaminato ed hanno confessato di non sapere come sia stato ottenuto e di non poter fare loro stessi altrettanto. nessuna meraviglia se egli desidera che il suo nome rimanga ignorato. Il ridicolo e il pregiudizio pubblico spesso sono più pericolosi dell'inquisizione di un tempo. Questa terra da mitica è parente prossima dell'Alcaest e uno dei più importanti segreti degli alchimisti. Nessun cabalista la ribellerà al mondo perché, come egli si esprime nel gergo ben noto, sarebbe come spiegare le aquile degli alchimisti e come si possano tarpare le ali delle aquile. Un segreto che costò a Thomas Vaughn 20 anni di studio. Mentre l'alba delle scienze fisiche sbocciava nello splendore del giorno, le scienze spirituali si immergevano sempre più nella notte e, infine, vennero negate. Così adesso quei massimi maestri di psicologia sono considerati antenati ignoranti e superstiziosi, saltimbanchi e giocolieri. In realtà il sole del moderno sapere oggi risplende così brillante che è divenuto una sioma affermare che i filosofi e i sapienti dell'antichità non sapevano nulla e vivevano in una notte di superstizione. Ma i loro detrattori dimenticano che il sole di oggi, a torto o a ragione, sembrerà oscuro in confronto con il fulgore di domani. E come gli uomini del nostro secolo considerano ignoranti i loro avi, forse tali li giudicheranno i loro discendenti. Il mondo si muove in cicli. Le razze venture saranno solo riproduzioni di razze da tempo scomparse, così come noi forse siamo le immagini di coloro che vissero centinaia di secoli fa. Verrà il tempo in cui coloro che oggi calunniano in pubblico gli ermetisti, ma meditano in segreto sui loro libri polverosi, che plagiano le loro idee, le assimilano e le presentano come loro proprie, avranno quello che si meritano. Come? esclama onestamente Pfaff. Quale uomo ha mai avuto più di Paracelso una chiara concezione della natura? Egli fu l'audace creatore della medicina chimica, il fondatore di società coraggiose, vittorioso nelle controversie, uno di quegli spiriti che hanno creato fra noi un nuovo modo di pensare sulla naturale esistenza delle cose. Quello che egli ha disseminato nei suoi scritti sulla pietra filosofale, sui pigmei e sugli spiriti delle miniere, sui pesaggi, gli omuncoli e l'elisir di vita, è impiegato da molti per denigrarlo, ma non può estinguere in noi il grato ricordo della sua opera in generale, né la nostra ammirazione per i suoi liberi e coraggiosi sforzi e la sua nobile vita intellettuale. Molti patologi, chimici, omeopatici e magnetizzatori hanno saziato la loro sete di sapere nei libri di Paracelso. Frederick Huffland trase le sue dottrine teoriche sull'infezione da questo ciarlatano medievale, come Sprangl si compiace di chiamare uno che fu immensamente più grande di lui. Hammond, che cerca di difendere questo grande filosofo e si sforza nobilmente di riabilitare la sua memoria calunniata, parla di lui come del massimo chimico del suo tempo. E così fanno il professor Molitor e il dottor N. Moser, eminente psicologo tedesco. Secondo la loro critica delle opere di questo ermetista, Paracelso è il più meraviglioso intelletto del suo tempo, un nobile genio. Ma i nostri lumi moderni pretendono di saperne di più e le idee dei rosa crociani circa gli spiriti elementari, i folletti e gli elfi, sono affondate nel limbo della magia come racconti per bambini.